La campagna seminativa, si può già fare un bilancio adesso a novembre? Sicuramente sì, abbiamo finito di raccogliere meno male tutto, perciò si può iniziare a tirare qualche somma. Un anno che è partito sicuramente con delle difficoltà in riguardo alla siccità, perché aprile-maggio non è mai piovuto e si era avviata una situazione in generale molto preoccupante e poi fine maggio, giugno, luglio è piovuto e le culture ne hanno tratto molto beneficio, tant'è vero che l'annata si è conclusa tra le migliori degli ultimi anni dal punto di vista produttivo. Il grano duro messo bene come aflatossine, sono mancate un po' le proteine, comunque ha prodotto un mercato abbastanza sostenuto, la PLV c'è stata, un po' meno per i grani teneri. Soia e mai sono prodotto bene con un mercato soddisfacente, questa è la situazione di quest'anno. È stato nato il 2019 dove abbiamo avuto dei grossi problemi per quanto riguarda la cimice asiatica. Nel 2020 la cimice asiatica non è stato un grosso problema, però abbiamo avuto un altro flaggello tipo la cimice asiatica in quanto è la macrolatura bruno o marciume calicino, che questo fungo praticamente in certe aziende ha fatto dei danni che sono arrivati anche all'80%. Si è un po' migliorata la situazione da un anno all'altro, 2019-2020, riguardo a questi aspetti? Allora si è migliorata un po' la situazione per quanto riguarda il discorso della cimice asiatica, si è migliorata. Abbiamo avuto un peggioramento per quanto riguarda il discorso della macrolatura bruno-alternaria. Guardando ai bilanci di questo anno, possiamo capire un po' quali sono state quelle colture più in sofferenza rispetto ad altre a livello frutticolo? Allora le colture che sono state molto in sofferenza sono state, parlando anche dei cambiamenti climatici, le brine che ci sono state in primavera dove hanno fatto sì, ci sono stati dei danni quali sono arrivati anche all'80-90%, specialmente su pesco e al bicocco. Questi sono stati danni irreversibili dove praticamente non si è potuto raccogliere niente. Per quanto riguarda il pero ha fatto dei danni perché ha creato delle lesioni, ha creato delle problematiche. Per quanto riguarda il meno, un po' meno di problemi, però anche quest'anno è stato un anno molto pesante per il settore frutticolo. Con quei occhi ho guardato il 2021? Guardiamo con l'occhio del 2021, guardiamo con un occhio, le posso dire che oggi, poi lo saprà anche lei meglio di me, oggi sui giornali sono stati praticamente menzionati dove vengono i ristorni per quanto riguarda la cimicia asiatica. Questo qui è stato frutto delle nostre organizzioni, delle organizzioni in quanto per far avere un ristorno dove praticamente molte aziende erano nello sconforto di chiedersi vado avanti o smetto. Con questo qui perlomeno, con questo ristorno che ci hanno garantito che entro la fine dell'anno arriverà, con questo ristorno ci dà almeno la fiducia e un po' di ossigeno per continuare ad andare avanti perché altrimenti il problema più grande è che viene l'espianto del frutteto ma non si pianta più.